Buongiorno a tutti, benvenuti su Bosse.pro, anche oggi abbiamo una sezione di trading e in particolar modo vogliamo presentarvi un'opportunità di guadagno con il broker XM, nostro partner che offre 20 dollari gratuiti a chiunque si iscriva. Per fare ciò tramite Bosse.pro è possibile andare sulla sezione brokers, sulla parte di XM, recensioni broker e trovate subito gli elementi principali del broker. Oltre a leggervi quindi la recensione è possibile aprire un conto. Cliccate sulla parte destra dove c'è scritto apri un conto e trovate subito la home page. Da home page potete registrarvi per aprire il conto reale. Il conto reale vi serve perché poi senza richiesta obbligatoria di deposito vi verrà una credita di 20 dollari per partecipare all'arena concorsi. Che cosa è l'arena concorsi? Allora, andiamo subito in alto su concorsi XM novità e verrà spiegato qui cosa e come funziona. L'arena concorsi vi permette di accedere a dei concorsi per sfidare gli altri utenti di XM e vincere dei soldi, dei montepremi. Montepremi che servono per partecipare ad altri concorsi e poi sono trasformabili in denaro reale, denaro che quindi potete poi prelevare. I concorsi sono di diverso tipo, di diversa scadenza, di diverso con e senso utilizzo di expert, concorsi giornalieri, 15 minuti, 1 ora, settimanali. Per fare ciò quindi bisogna loggarsi come membri, quindi entrate con il vostro conto reale e poi registratevi un nickname e entrate sulla login della Contest Arena. La Contest Arena, questa ad esempio è la nostra Contest Arena, dove abbiamo accreditato già 20 dollari, perché ci siamo già registrati. Qui ci sono tutti i concorsi, ad esempio eliminiamo quelli in corso in cui non possiamo più iscriverci, prendiamo solo quelli free e durata 15 minuti. Ad esempio in questo momento ce ne sono pochissimi e magari entriamo sulla prima, clicchiamo su iscriviti e conferma e poi entriamo dentro il concorso. Notiamo che qui ci sono 6 persone su 10 entrometri iscritti, il concorso dura 15 minuti, il primo vince 25 dollari, il secondo 15, il terzo 10. Abbiamo anche una chat, qui mandano 3 partecipanti e poi si è via. Per la login ci danno un nuovo utente, quindi questo numero, quindi apriamo la piattaforma di MetaTrader, di XM, andiamo a mettere il numero e inseriamo la password della nostra Contest Arena e poi scegliamo il server che è XM Real 4. Quindi andiamo sulla XM Real 4, clicchiamo su login e eccoci qua, fra un po' che si aggiorna il tutto con il Montepremi su cui si parte, cioè 10.000 dollari. Si aggiornerà effettivamente quando partirà il Contest, cioè fra un minuto e 35 secondi. Allora, come vedete il Contest è partito, quindi abbiamo qui subito la classifica sul lato sinistro in tempo reale, quindi questo ci permetterà di muoverci. Abbiamo un Conto, abbiamo quindi la possibilità di personalizzare il trend così come ci interessa a noi e ad esempio potremmo decidere di muoverci con un acquisto, ad esempio, vi sto seguendo questo trend così semplice, magari possiamo aggiungere, ne so, uno stocastico, potremmo aggiungere anche una mobile beverage per vedere come è messo il trend, possiamo quindi personalizzare come vogliamo, ma giustamente quindi lo scopo è quello di arrivare prima tra tutti gli iscritti, ad esempio io ho comprato il Vai e il OSD, perché magari penso che da qui a 15 minuti possa salire, poi magari posso anche andarmi a prendere altre valute, non lo so, questo ad esempio è USDN, che effettivamente sta rimbalzando bene, oppure abbiamo, vediamo EURYEN, con, guardate qui, anche qui un altro balzo importante, quindi magari vado a prendermi una posizione al rialzo, quindi vado a caricarmi su queste valute, anche sull'USDN, magari vado a caricarmi, quindi ho comprato tutto al mercato, quindi, anzi questo è un buy stop, quindi possiamo cancellarlo, andiamo a mettere invece un buy al mercato, benissimo, cosicché siamo subito al mercato, vediamo un po' come si muove, non so, ad esempio anche esterlino USD, potrebbe essere interessante da tradare, vediamo com'è graficamente impostata, quindi una certa lateralità, già da un bel po' di tempo, sì, magari potrebbe anche essere interessante acquistarlo, magari a un prezzo più basso, quindi andiamo a mettere un buy limit ad esempio, quindi si arriva su questo prezzo, entriamo al mercato, quindi cosa dobbiamo fare adesso, dobbiamo solamente attendere, che il trend vada in corso, durante questi 15 minuti, i risultati, le classifiche e altro, li troviamo direttamente in tempo reale, ad esempio in questo momento siamo quarti, e quindi ci dovremmo decidere a muovere, secondo quindi le nostre descrizioni, vediamo un po' come si svilupperà in tutto, quindi ripeto, andate sul sito bosse.pro, sezione brokers, andiamo sulla recensione dei brokers di XM, e cliccate su apri un conto, tanto l'operazione è gratuita, e non costa nulla, allora, prendo la piattaforma, notiamo che le nostre posizioni ancora non vanno in guadagno, perché giustamente ci vuole un po' di tempo, abbiamo comprato anche dei lotti grossi, che sicuramente ci incidono la nostra pazienza, vediamo se verrà ripagata o meno, la scadenza del concorso è in tempo reale, quindi adesso mancano ad esempio 10 minuti e 53 secondi. Allora, in questo momento ad esempio mancano 2 minuti e 54, in questi 2 minuti e 54, la nostra posizione è messa in la seconda, in classifica, perché, meno male, quindi le nostre scelte di investimento sono state azzeccate, quindi il trend sta salendo ad esempio su EROIN e su SDN, mentre su EROUSD siamo ancora abbastanza fermi, quindi il muoversi di queste valute, sicuramente ci sta avvantaggiando, quindi il trend ci permette di muoverci in classifica, in tempo reale, ad esempio adesso siamo terzi, quindi prima eravamo secondo, poi primi, manca un minuto e 52, quindi se entro un minuto e 52 riusciamo a tenerci tre primi e tre, ad esempio vinciamo questa parte come terza posizione, quindi manca un minuto e 41, vediamo un po' se magari potessimo effettuare qualche altra modifica alla strategia, sicuramente un incremento del trend potrebbe essere a rialzo nuovamente entro un minuto, potrebbe essere a nostro favore, magari aggiungiamo un altro ordine al mercato su SDN, se quindi sale, quindi abbiamo sicuramente la possibilità di guadagnare, vediamo un po' che succede, mancano 58 secondi, vediamo chi è che sta salendo, ecco l'eo-USD ad esempio sta risalendo, SDN non tanto, mentre la stellina USD non è stata poi eseguita alla fine, quindi un SDN che magari potrebbe anche risalire, e ecco qua l'eo-USD che si riprende in una posizione, quindi risale, quindi siamo secondi, mancano 20 secondi, quindi vediamo un po' che cosa succede, come riusciamo a chiudere, 15 secondi, 10, 5, ok, ecco qua, siamo arrivati ai secondi, abbiamo guadagnato 15 dollari, ok, quindi il nostro sal contest credit è andato bene, ad esempio qui avevo fatto alcuni contest poco fa, quindi 2 erano andati male, cioè nel centro sono arrivato quarto, sesto e adesso sono arrivato secondo, quindi in questo ad esempio ho preso 15 dollari, nulla viete di partecipare in più concorsi in contemporanea, quindi, cosa mi servono questi concorsi? Per partecipare ad esempio a quelli a pagamento, che come oggi, ancora in quest'ora non ci sono, magari pomeriggio ci saranno, quindi utilizzo questi soldi per partecipare in quelli a pagamento, quelli a pagamento, poi ci sono invece delle vincite in denaro reale, e quindi con queste vincite in denaro reale, io vado a guadagnare i soldi reali, quindi c'è, questo modo di lavorare, permette sia di allenarsi con soldi demo, e sia di non rischiare i soldi reali, ma poter vincere soldi reali, quindi è importantissima questa situazione. Va bene, quindi vi ringrazio per l'attenzione, e se siete interessati ad approfondire questo argomento, non esitate a contattarci a esperti chiocciolaborse.pro.